Buongiorno, in questo video vi mostrerò come controllare un ponte raddrizzatore. Lo schema di collegamento dei diodi all'interno del ponte raddrizzatore lo vedete nella figura in alto a destra. Dobbiamo semplicemente controllare i quattro diodi presenti al suo interno. Per fare questo colleghiamo una volta il puntale negativo del tester sul positivo e vediamo che collegando il puntale positivo del tester su due terminali indicati con il simbolo alternato del ponte raddrizzatore dobbiamo avere la continuità di due diodi. Questo ci mostra che due diodi sono efficienti. Se avessimo avuto 0 in questa condizione vuol dire che uno o entrambi i diodi sono in corto e quindi il ponte è guasto. Poi invertiamo i terminali del tester, colleghiamo il positivo sul positivo e alterniamo sui due terminali di alternata il negativo. Il circuito deve essere aperto. Se così non fosse, quindi se con uno di questi due continueremmo a avere una lettura di 0 volt, vorrebbe dire che uno dei due diodi è in corto. Controlliamo gli altri due diodi, quindi colleghiamo il puntale positivo sul negativo e alternativamente il puntale negativo sui due terminali di alternata. E abbiamo i due diodi polarizzati direttamente. Anche in questo caso, se avessimo una lettura di 0, vorrebbe dire che uno dei due diodi è in cortocircuito. Invertiamo il terminali del tester, ponendo il terminale negativo sul negativo del ponte raddrizzatore e deve essere un circuito aperto. Questo vuol dire che il ponte raddrizzatore è perfettamente funzionante. Anche in questo caso, se avessimo una lettura di 0, vorrebbe dire che il ponte raddrizzatore è in corto. Un'altra particolarità che vi dico è come si legge la tensione di funzionamento e la corrente massima di funzionamento. Questa tipologia qui indica B80 C3700 barra 2200. Cosa vuol dire? B80 è la tensione di funzionamento massima, quindi un ponte da 80 volt. C3700 2200 è la corrente. 3700 mA nel caso venga utilizzato con un opportuno dissipatore di calore. In aria invece, senza dissipatore di calore, può essere utilizzato con una corrente massima di 2200 mA. Queste altre tipologie di ponte raddrizzatore invece hanno una sigla. Bisogna trovare il datasheet per leggere la tensione e la corrente massima di funzionamento. Grazie a tutti, arrivederci.